E' terminata la partita qua ai playoff nazionali per lo scudetto lievi tra Polisforteva Mirto e Caos Fuzz al Ferrara. E' qua con noi un giocatore del Mirto, mentre vediamo i gol dei suoi compagni di squadra a lui chiediamo un commento su questa loro vittoria. Salve, sono Pugliese Catardo, nel primo tempo siamo andati sotto 2-0, credo immeritatamente, però poi con la rinda di alcuni singoli, ma della squadra e soprattutto del mister abbiamo reagito e il risultato ci ha dato ragione, infatti la partita è finita 8-4. Ti ringrazio per l'intervista, ci vediamo alle prossime partite. Grazie a te e speriamo bene. Ed ora siamo con un giocatore del Caos Fuzz al Epoca con noi Tommaso, mentre vediamo le azioni della partita chiediamo anche lui un commento su questa gara. Sicuramente è stata una partita molto emozionante, loro erano all'altezza, infatti ci hanno messo molte volte in difficoltà, però un aspetto negativo è stato l'arbitraggio, infatti ha caratterizzato questa partita. Ci aspettavamo di arrivare un pochino, di piazzarci in una posizione migliore, però è andata così e è già successo arrivare ad essere sommata la prima opto più fatta in Italia. Grazie Tommaso, ci vediamo domani per la vostra terza partita. Ciao, ciao a tutti.